Musica Arrestate tre persone accusate del furto dei due camion della raccolta dei rifiuti del comune di Polistena Fallimenti e frodi fiscali, sequestro di beni per 10 milioni di euro, 5 arresti a Vibo Valencia Assenteismo in ore di servizio, eseguito sequestro preventivo ad un dipendente pubblico a Cosenza L'Unical, anche per l'anno 2023, ospita AIRC Campus, il progetto di fondazione AIRC per la ricerca sul cancro dedicato agli studenti universitari Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV I carabinieri della compagnia di Taurianova hanno arrestato tre soggetti, giornotti alle forze dell'ordine per furto e ricettazione dei due camion per la raccolta dei rifiuti del comune di Polistena che erano stati rubati nella notte del 20 agosto scorso Due di loro, dopo aver rotto i lucchetti del cancello principale del centro raccolta rifiuti I carabinieri di Polistena avevano rubato i mezzi parcheggiati all'interno in particolare un furgone, una motrice con la gru e un cassone scarrabile utilizzati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti causando disservizi all'intera popolazione che per diversi giorni ha avuto problemi con la raccolta dei rifiuti Una terza persona invece è il gestore dell'autocarrozzeria all'interno della quale nel novembre scorso è stato rinvenuto dai militari dell'arma uno dei mezzi che erano stati rubati ma anche se l'uomo aveva negato di conoscere la provenienza del furgone per lui è scattato lo stesso l'ipotesi del reato di ricettazione I tre ora si trovano ai domiciliari con l'aggravante del divieto di comunicazione e con persone non conviventi Un uomo di 66 anni è stato ritrovato in casa senza vita incontrata a Gambelluccia a Corigliano Rossano il corpo riverso a terra con il volto sfigurato a chiamare il 112 i vicini di casa che avevano sentito dei rumori e non lo vedevano da alcuni giorni Secondo i militari del reparto di Corigliano Rossano non dovrebbe trattarsi di omicidio Il decesso infatti sarebbe avvenuto per cause naturali Forse un infarto, l'uomo viveva solo con il cane e forse i morsi della fame potrebbero aver spinto l'animale ad azzannarlo L'abitazione infatti è stata trovata totalmente in disordine L'uomo pare soffrisse di un disagio mentale Continuano i controlli dei NAS nelle mense scolastiche della regione questa volta ad essere controllate le scuole della provincia di Catanzaro e Vibo Valencia Anche le province di Catanzaro e Vibo Valencia sono state interessate nei giorni scorsi dai controlli effettuati dai NAS nelle mense scolastiche al fine di garantire che i pasti somministrati ai bambini non fossero dannosi per la loro salute Su 13 aziende di ristorazione operanti all'interno di mense scolastiche di ogni ordine grado dagli asili nido agli istituti superiori sia pubbliche che private bene il 53% ha evidenziato irregolarità Tra queste sono scaturite tre violazioni penali e sette amministrative con le conseguenti sanzioni per un importo di 14.000 euro Le violazioni contestate riguardano la gestione degli alimenti in materia di autocontrollo alimentare e in un caso nella mancanza rispondenza dei requisiti prestabiliti dai capitolati di appalto Inoltre è stata anche disposta la sospensione di una cucina all'interno di una scuola materna per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali In tre casi i responsabili delle strutture sono stati deferiti all'autorità giudiziaria Uno perché è ritenuto responsabile di inadempienze in pubbliche forniture e gli altri due perché è ritenuto irresponsabile dell'inosservanza delle disposizioni normative sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Furto nel Vibonese è stata infatti rubata la statua di San Francesco che si trovava nella sede della cooperativa La Voce del Silenzio sita al secondo piano del Centro Servizi Sanitari Santa Maria del Carmine a Pizzo Calabro Si tratta della scultura in bronzo raffigurante San Francesco di Paola realizzata e donata nel 2010 dall'artista Michele Zappino Il ladro pare abbia agito munito di scalpello poiché ha anche rimosso la base Ed è stato sepolto nel cimitero di Crotone il corpicino del neonato che è stato tra le prime vittime recuperate dopo il naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro KR 16 M0 non è più una sigla ma è ali il sedicesimo corpo trovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro di poco meno un anno Il suo ultimo viaggio terreno si è compiuto nel cimitero di Crotone dove è stato inumato era presente la comunità cittadina stretta intorno al sindaco Vincenzo Voce e per i riti di sepoltura la preghiera dell'imam della moschea di Cutro Mustafa Sik Siamo arrivati alla fine di questa tragica vicenda il corpicino del piccolo Ali ho fatto richiesta a Sua Eccellenza il prefetto per inumarlo a Crotone ecco l'ultimo gesto per rispettare questa povera gente che pensava di trovare un approdo sicuro e abbiamo visto invece cosa è successo questo sarà il bambino dei crotonesi io dico ci ho tenuto ad averlo qui c'è un altro ragazzo di 24 anni il primo che è stato inumato qui al nostro cimitero quest'ultimo viaggio terreno non sia vano perché i soccorsi ha ribadito il primo cittadino devono essere istantanei porti aperti ha ribadito ancora quando la macchina dei soccorsi si mette in moto sappiamo farla funzionare egregiamente quella sera, quella tragica mattina non ha funzionato evidentemente qualcosa sappiamo che l'imbarcazione era stata avvistata c'è segnalata c'erano le condizioni per presumere che fosse carica di persona poi è la strage dei bambini è la strage delle donne che cercavano di fare ricongiungimento con i familiari non volevano stare nemmeno in Italia queste persone abbiamo visto che al Pallamilone per settimane si è parlato quasi esclusivamente il tedesco e adesso oggi sono state tolte le ultime bare e ce ne sono altre due che in serata dovrebbero partire a lì sarà il bambino di tutti i crotonessi per quanto riguarda invece i superstiti come stanno trovando accoglienza nella città di Croton? guarda quelli che sono rimasti sostanzialmente partiranno in Germania nei prossimi giorni e quindi sono arrivati funzionari dell'immigrazione tedesca e andranno lì altri hanno già provveduto autonomamente ad allontanarsi operazione congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza di Vibo Valencia che ha portato all'arresto di 5 persone e dal sequestro di beni per 10 milioni di euro operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza di Vibo Valencia che ha portato all'arresto di 5 persone e al sequestro di un'azienda attiva nel settore agricolo oltre a denaro e beni per un valore di oltre 10 milioni di euro in totale però sono 7 gli indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di bancarotta fraudolenta per 5 di loro sono scattate le manette uno è finito in carcere gli altri 4 sono agli arresti domiciliari ma tutti sono stati interdetti per 12 mesi dall'esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese le indagini sono partite a seguito del fallimento di una prima società operante in abito ortofrutticolo e del successivo fallimento di ulteriori 5 attività produttive che sulla base delle relazioni del curatore sono state riconosciute come un'estensione della prima secondo gli inquirenti i soggetti indagati avrebbero messo in piedi un sodalizio criminoso che avrebbe utilizzato le società in questione per condurre operazioni fittizie e distrazioni di beni che avrebbero portato al loro fallimento allo scopo di frodare l'erario ai creditori nel complesso la Guardia di Finanza ha stimato un ammontare di fatture per operazioni inesistenti pari a 37 milioni di euro con un'evasione delle imposte pari a 7 milioni e 700 mila euro nonché debiti nei confronti dell'erario e dei creditori per un ammontare di 15 milioni e 800 mila euro sono tante le criticità nel comune di Melito Portosalvo nel Regino Graziano Tomarchio ha sentito il sindaco ascoltiamo sono delle criticità qui a Melito Portosalvo ecco tante problematiche io non posso non porre in evidenza diciamo la questione infognaria, depurativa e al tempo stesso idrica queste sono le criticità più grosse che abbiamo e che dobbiamo in tutti i modi cercare di risolverli io la prossima settimana sarò a Catanzaro ho chiesto anche un incontro col Presidente Occhiuto e col responsabile dell'ambiente per vedere come possiamo intervenire nell'immediato altrimenti con il divieto che mi è stato posto l'altro giorno notificato dello sversamento dei liquami del nostro depuratore io sarò costretto domani, dopodomani al massimo di emanare l'ordinanza va bene di vieto di balneazione con tutta la criticità possibile e immaginabili perché abbraccia anche i balneari e tutto il resto io non ci voglio cadere in una situazione di questo genere cercherò in tutti i modi possibili e immaginabili di farmi risolvere questo problema appunto perché non abbiamo risorse economiche essendo il nostro sarebbe un disastro visto l'imminente stagione estiva ecco perché gli operatori non potrebbero operare assolutamente questo qua è un problema che la Regione Calabria non mi può abbandonare diciamo al mio destino io ci tengo tanto perché Melio è stato sempre un paese turistico un paese dove la balneazione è stata sempre molto attiva e al tempo stesso ci ritroviamo anche ad avere un afflusso di persone che vengono da fuori che possono essere parenti che possono essere gente che rientra dopo tanto tempo gente che ha persone che hanno la casa in affitto da più di un anno per esempio parlo della zona di Annà dove il depuratore è più vicino ad Annà però questi sono problemi che senza un ordine superiore io mi interpecerò anche con il prefetto di Reggio Calabria se non mi daranno dei grossi finanziamenti per cercare di porre il rimedio a questa criticità e allora io sarò costretto a confermare sempre l'ordinanza e di vieto di balneazione Restano in assemblea permanente i dipendenti del Sant'Anna Hospital a Catanzaro struttura bloccata per inchieste varie e debiti i lavoratori attendono ancora mesi di stipendi Siamo in assemblea permanente da più di una settimana ormai perché stiamo rivendicando i nostri stipendi ad oggi ne abbiamo ricevuti solo in parte ma ne mancano almeno altri tre o quattro più un premio produzione riconosciuto con la sottoscrizione dell'ultimo contratto collettivo quindi siccome non sappiamo quando verranno erogate le altre mensilità noi continueremo con questa assemblea permanente La nostra speranza è che a breve possono completare questi pagamenti e che la clinica possa riprendere a lavorare meglio di prima questo è il nostro augurio che facciamo Ancora una notizia di crona che i finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo a carico di un dipendente pubblico in servizio presso un poliambulatorio medico di un comune della provincia di Cosenza I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo a carico di un dipendente pubblico in servizio presso un poliambulatorio medico di un comune della provincia di Cosenza accusato di assenteismo Le indagini sono state condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Monte Giordano che hanno appurato che l'uomo aveva attestato la presenza al lavoro per circa 125 ore di servizio di fatto mai effettuate in quanto era solito allontanarsi dall'ufficio senza alcuna valida ragione lavorativa per esigenze di carattere personale come ad esempio per recarsi presso un vicino centro commerciale oppure il proprio istituto di credito oppure ancora per ritornare a casa durante l'orario di servizio a volte anche non effettuando il previsto rientro pomeridiano ora il GIP ha predisposto il sequestro delle somme indebitamente percepite mentre altri sei soggetti a vario titolo protagonisti di condotte analoghe risultano allo Stato intagati a piede libero i delitti contestati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio reato che comporta tra l'altro il licenziamento per giusta causa un 85enne di Reggio Calabria si è assentato per una settimana dalla propria abitazione ma quando è rientrato ha trovato la serratura cambiata e non è potuto entrare da qui la segnalazione da parte dell'uomo alla polizia locale e ai vigili del fuoco è stata subito avviata un'indagine che ha permesso di denunciare in Stato di libertà tre persone accusate di violazione di domicilio occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale pubblica falso ideologico e simulazione di reato i tre, secondo l'accusa falsificando alcuni atti e rendendo dichiarazioni mendaci a pubblici ufficiali erano riusciti a farsi intestare anche l'utenza elettrica dell'immobile ed avviare le pratiche per il riconoscimento della residenza le manovre fraudolente sono state però smascherate dalla polizia che ha riconsegnato l'alloggio all'anziano seppur mal ridotto e spoglio dei mobili accatastati dagli abusivi nei semi interrati della palazzina andiamo avanti con il nostro giornale cambiamo argomento il Palacro di Crotone ha ospitato tantissimi studenti per la settimana provinciale dei campionati studenteschi organizzata dall'USR per la Calabria a T di Crotone con una cerimonia di apertura che ha coinvolto proprio gli studenti del territorio provinciale tanti studenti il 28 marzo mattina presso il Palacro di Crotone per la settimana provinciale dei campionati studenteschi organizzata dall'URSS per la Calabria a T di Crotone con una cerimonia che ha coinvolto proprio gli studenti del territorio provinciale la settimana dei campionati studenteschi che vede la collaborazione di Sport e Salute il CIP la provincia e il comune promuove la pratica sportiva partendo dai giochi e dallo sport di Crotone capitale della Magna Grecia questa mattinata promuove la cultura dello sport e dell'inclusione sociale e nella mattinata il pensiero è stato rivolto alle vittime del naufragio di Steccato di Cutro dove ogni scuola era presente con il proprio standardo poi il silenzio suonato da Emanuele Martino del liceo Gravina l'omaggio della poesia di Enri De Luca Marenostro letta da Miriam Iannuzzi del liceo Pertini Santoni poi il teodoforo Mattias Rizzotto è entrato presso il Palacro accendendo la fiaccola olimpica in presenza delle sacre vestali della scuola di danza olimpia le crotoniadi e questi giochi sono dedicati a chi ha perso la vita in quelle spiagge così vicino a Crotone così vicine alle nostre esperienze sì non avremmo voluto dedicarli a un evento così tragico ma come nell'antichità oggi diciamo si fanno i memorial noi dedichiamo questa manifestazione a questi profughi a queste persone che hanno fatto un viaggio in cerca della libertà e di una vita migliore all'arrivo diciamo hanno avuto un evento così negativo è un inna alla gioia un inna alla vita dedicata a queste persone che erano volute qui alla ricerca di speranza e lo sport è anche questo ricordare le persone che non ci sono siamo giunti all'ultima notizia l'unica anche per l'anno 2023 ospita Air Campus il progetto di fondazione ARIC per la ricerca sul cancro dedicato agli studenti universitari durante le sessioni formative i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la fondazione la sua missione i suoi valori e di entrare a far parte della squadra dei suoi volontari attraverso lezioni e laboratori anche quest'anno l'unica la ospita Air Campus il progetto della fondazione ARIC per la ricerca sul cancro dedicata agli studenti universitari grazie a questo accordo durante le sessioni formative i partecipanti al progetto avranno la possibilità di conoscere la fondazione la sua missione e i suoi valori e quindi entrare a fare parte della squadra dei suoi volontari attraverso lezioni e laboratori i temi che Air Campus porta nelle aule spaziano dalla comunicazione della scienza e l'economia dalla biologia e la psico-oncologia un progetto multidisciplinare che propone un ampio ventaglio di contenuti coerenti con i piani di studio e testimonianze di professionisti in grado di trasmettere la loro quotidiana esperienza sul campo 5 gli appuntamenti previsti l'ultimo dei quali il 10 maggio Con l'avvio del corso di laurea in medicina e chirurgia e tecnologie digitali anche la nostra università rafforza l'impegno a garantire un importante momento di approfondimento scientifico legato alla ricerca sul cancro proponendo allo stesso tempo una azione dall'alto valore sociale per sensibilizzare tutta la comunità sul valore della prevenzione e della solidarietà Durante Air Campus i nostri studenti avranno infatti l'opportunità di confrontarsi direttamente con i professionisti che operano nel mondo della ricerca e di arricchirsi grazie alle significative testimonianze che saranno presentate come quelle in programma sulla scoperta del DNA e il ruolo delle scienze nell'era post-genomica nella prospettiva della medicina personalizzata incontro che sarà tenuto dal professor Salvatore Pece ricercatore AIRC presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano termina qui la nostra informazione ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per averci seguito la guerra ibrida della Russia con i paesi ostili durerà a lungo lo ha detto il portavoce del Kremlino Peskov mentre Putin ha ammesso che le sanzioni possono danneggiare l'economia russa intanto il presidente ucraino Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev e si dice pronto a parlare con lui il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica Grossi nel frattempo fa sapere di star cercando di raggiungere un compromesso tra Mosca e Kiev per evitare una catastrofe nella centrale nucleare in Zaporizia Il ministro degli affari europei Raffaele Fitto nel suo intervento alla presentazione della relazione della Corte dei Conti sul PNRR alla Camera ha detto se noi oggi capiamo che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa insomma il momento è difficile la relazione della Corte dei Conti ha evidenziato forti rallentamenti nella spesa e nel raggiungimento degli obiettivi ritardi per un progetto su due pagamenti arrivati solo al 70% delle imprese l'Italia ad oggi ha speso solo il 6% dei fondi di fronte all'evidenza dei fatti e dei numeri Fitto ha ammesso che l'orizzonte temporale del piano è troppo corto perché tutti gli obiettivi possano essere realizzati entro il 2026 il nuovo codice degli appalti ha luci ed ombre ma il principale problema è che sotto i 150 mila euro si dà mano libera si dice di non consultare il mercato scegliete l'impresa che volete il che vuol dire che si prenderà l'impresa più vicina a quella che conosco non quella che si comporta meglio a dirlo è il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia spiegando che in questo modo sotto i 150 mila euro va benissimo il cugino o anche chi mi ha votato e questo è un problema soprattutto nei piccoli centri un enorme incendio in un'azienda che tratta solventi chimici è scoppiato a San Pietro Mosezzo in provincia di Novara un'altissima colonna di fumo si è allevata e sono state udite alcune esplosioni dovute probabilmente a tombini saltati nessun ferito tra i circa 30 operai che si trovavano all'interno della struttura dopo l'intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate in un primo momento si è temuto che la nube sprigionata dall'incendio potesse essere tossica ma dopo i rilievi dell'ARPAT il sindaco di Novara ha fatto sapere che non c'è alcun allarme per la salute l'ultimo saluto a Gianni Minà oggi nella sala della protomoteca in Campidoglio la camera ardente che è stata aperta dalle 10 alle 19 tanti amici del mondo dello spettacolo dello sport e del giornalismo hanno reto omaggio al cronista scomparso lunedì scorso a Roma a 84 anni divenuto celebre per le sue interviste a Maradona Fidel Castro Muhammad Ali e per i suoi reportage i funerali si svolgeranno invece in forma strettamente privata centinaia di scienziati ed esperti tra cui il patron di Tesla Elon Musk hanno firmato un manifesto in cui si chiede uno stop di sei mesi nello sviluppo di intelligenze artificiali più potenti della chat GPT-4 software lanciato nello scorso marzo avvertendo di possibili rischi per l'umanità in particolare la moratoria dovrebbe essere dedicata allo sviluppo di sistemi di sicurezza come nuove regolamentazioni specifiche per il settore delle tecniche che consentono di distinguere il reale dall'artificiale e delle istituzioni capaci di gestire le perturbazioni economiche e politiche provocate dall'intelligenza artificiale di sicurezza di sicurezza